Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Spero... Stavo per dire spero mi sentiate bene ma... Come avete visto qualche giorno fa è uscito un nuovo Brawl Talk e come il signor Drew ci ha detto più volte È necessario entrare in un club per il nuovo aggiornamento Per quale motivo? Perché uscirà una nuova modalità che porterà ad aprire una nuova valuta Le nuove casse che sono in realtà delle uova tramite la quale potrete trovare le nuove mutazioni Innanzitutto sono oggi in chiamata con Narcos Ciao Narcos Eccomi ciao a tutti Vuoi spiegare perché sei in chiamata e cosa andremo a fare in questo video? Semplice allora praticamente il nuovo community manager ha detto che bisogna creare un clan attivo Bisogna essere in un clan attivo assolutamente per questo nuovo aggiornamento Quindi noi andremo a creare il nostro clan che sarà il più attivo di tutta Italia Esattamente ragazzi l'obiettivo è portare questo club come facevamo anni fa addietro in top 1 Italia E renderlo il più attivo possibile Se l'idea vi può piacere spero che possiate entrare Cerchiamo chiaramente membri che siano il più attivi possibili E che quindi giochino chiaramente al massimo delle loro possibilità il mega nudo Porco 2 Il mega pig e anche il nuovo evento che chiaramente uscirà Ragazzi il nome del club è stato deciso non solo da me e Narcos ma soprattutto dalla chat di Twitch Infatti siamo in live nel momento in cui stiamo creando questo video Vi consiglio perciò di passare dai link in descrizione Troverete il mio canale Viola e il canale YouTube di Narcos Che forse a breve tornerà a caricare dei video Detto ciao Narcos lascio a te decidere l'icona Te sei più quello dell'estetica del club Come vorresti che il club fosse rappresentato? Con quale icona? Allora fammi valutare un attimo che li devo vedere adesso Vabbè a parte che questo si può cambiare volendo Comunque io metterei la coroncina gialla Allora come descrizione come vorresti che fossi impostata? Allora ci metterei qualcosa assolutamente sulle due colonne portanti della community Perché noi siamo le due colonne portanti della community italiana di Brawl One eternity later Sì ci sta la goda Vai top Perfetto Descrizione ragazzi scritta Dalle colonne portanti della community italiana Eccovi il club migliore d'Italia Poi mettiamo anche l'Instagram di Narcos E i codemobby Sperando che finalmente un giorno riceveremo il nostro fatidico coach Il club sarà ad invito Le richieste saranno prevalentemente controllate da Narcos Perché Narcos è molto attento sui dettagli del vostro account Se vi vede troppe winning showdown non vi prende Così abbiamo ogni occhio a fare richiesta Perché sarà Narcos ad accettarvi e rifiutarvi E soprattutto ci tengo a dire Che se siete inattivi per più di un giorno Verrete chiccati Perché questo è il clan più attivo d'Italia Ci tengo a dirlo Porca miseria Oh chill 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 Dov'è Narcos? No sono già scomparso Non ci credo No non ci sei No è un problema No Narcos dove cavolo sei? Rimandalo No ti giuro non posso più portarlo No zio sei sparito Mi dice che non esiste già un'inconfianza No 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 Eccoti ecco ti Eccoti ecco ti Eccoti ecco ti Oh ce ne sono due Ce ne sono due come è possibile? E quindi posso accettarti due volte? Si posso accettarti due volte Ok no Oh fai vedere il clan quanto è attivo Tutti online Cioè trovavi un clan con tretto Per essere online su tretto Esatto ragazzi vorrei mettere Direi di fare una partita su brawl ball Tu colta quanto ce l'hai? No ce l'ho abbastanza altino Mille Direi di andare raga Mi raccomando Iscrivetevi al canale Perché anche i 100.000 iscritti Sono davvero il mio obiettivo finale Per quest'anno Sarebbero tantissima roba Ricevere la placchetta a casa Lasciate like Seguite Narcos Dal link in descrizione Vamo con la partita O le due partite Prima di chiudere il video Perché stai ridendo? Oddio quanti spettatori No 120 spettatori Ma com'è possibile? Com'è possibile? Ma le clacce le stanno 30 No questo è un bug per forza Che cosa è successo? Cavolo dico Stavo per farmi una doppia subito Peccato che c'è Shelly E mi ha distrutto Allora Narcos 130 spettatori Non possiamo perdere Tu sei già morto Io pure Un attimo Perfetto Sti qua diranno What the fuck Shelly ha la ulti zio Ma dov'è la nostra tara? Che fa? No Ho cannato tutto zio Aspetta prendi la palla No prendi la palla Bravo bravo Prendi la palla Ok Aspetta aspetta No 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 Non è finito zio Calma Siamo pure in Brault TV adesso La tara deve La tara deve pullare Brava Pure in Brault TV ora Avranno detto che cazzo è? Il 90% degli spettatori Dei Brault TV Siamo Sono i nostri fan Bel gol questo zio E' il gol della madonna Però tara ha sprecato il pull E questo è un big problema Bravo Ok Triple pipistrelli zio Vai 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 Ora vai più No siete tutti morti E' rimasto con 20 di vita Shelly Dai 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 sto spawnando Ok Aiuto Occhio al fang Alla ulti Buona la sprecata Dai tara Mi raccomando anche te Ok Va bene Top Ti ha rallentato Mi ha rallentato Ok quasi la ulti Bravo bravo bravissimo Questo è il gol Vai entro Entro Che partita della madonna Peccato però per la Brault TV Perché ha sprecato l'enfasi degli spettatori Ecco qua che gli spettatori iniziano a crescere Mettiamo un po' di ansietta ai nostri avversari Ma prima 117 era un bug zio per forza Non si spiega Zio non so come sia possibile Ok prima kill fatta Aia Ambra mi ha demolito col gadget In che mi mettiamo un po' di ansietta E con 120 Ok però dobbiamo vincere la zio Come prima Come prima Vai 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 Easy Il problema è che Tara non gioca Ho bisogno però Non ci credo Non ci credo Ma te dove cavolo sei? Tutto il tempo nello spawn Arriva arriva E poi Tara perché non mi ha passato la palla prima Vabbè Aia Oddio No Doveva pullare Vai l'ho pullato No Vai No Dai come ha segnato Davanti a 230 230 spettatori No Un'altra Un'ultima Un'ultima partita perché dobbiamo concludere con la win per forza Ok eccoci 103 spettatori Ultima partita Cerchiamo di concludere in bellezza Io gioco Mortis che non gioco da 40 anni Povero Ok Vai 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 Stannalo Bravo Ed è gol Grande narco Let's go Perfetto Evito qua Penso che non mi poteva neanche colpire Se avessi avuto il Salta 230 spettatori Ancora La finisco col trick No Peccato 230 di no Hai ragione Passa qua Vai Che conclusione Che conclusione della madonna Detto ciò ragazzi Li badisco Se voi avete visto questo video E vi reputate con abbastanza coppe per entrare nel club Mandate pure la richiesta Cerchiamo di fullarlo Portarlo subito in top 1 Io vi ringrazio ancora di aver visto il video Noi ci vediamo con il prossimo video Ciao ragazzi 3,2,1 Quando vuoi Per concludere il video ragazzi Ci trovate già in top 16 italiana In meno di mezz'ora E quindi se volete entrare Ci trovate anche Aspetta Aspetta C'è una sub che ti ha interrotto Grazie Arsene Faccia buone ragioni proprio adesso Allora per concludere il video ragazzi E No aspetta Ragazzi per concludere il video Siamo sedicesimi in Italia In questo momento Con il clan Ci siamo arrivati in veramente molto tempo No Un'altra song Vabbè Oh che cazzo Ragazzi per concludere il video Siamo tredicesimi in Italia Come vedete Ringrazio veramente tutti Quelli che ci stanno guardando Tutti quelli che sono entrati E tutti quelli che entreranno in futuro Quindi ragazzi Ci trovate anche Nelle classifiche Dei top clan in Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti